Il Paradiso delle Signore Otto, Chiara Rosso e Il Silenzio, tornerò per il nuovo inizio. Succederà nelle nuove puntate del Paradiso delle Signore Otto e chi ci sarà nel cast? L'appuntamento con la settima stagione della SOP Opera Pomeridiana di Rai 1 si avvia ormai verso le battute finali e... Intanto, cresce già l'attesa per l'ottava stagione. I tantissimi fan e spettatori della SOP sono a caccia di informazioni e anticipazioni su quello che sarà il futuro della serie e che tutti i giorni appassiona milioni di spettatori. E, a rompere il silenzio in questi giorni, ci ha pensato l'attrice Chiara Rosso, che veste i panni della giovane Maria. Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore si avvia verso il finale di questa settima stagione ma intanto gli sceneggiatori sono già al lavoro per mettere a punto le trame dell'ottava stagione. Sì, perché dopo il grande successo di Ascolti registrato quest'anno, la SOP tornerà in onda da metà settembre e in poi con le puntate inedite dell'ottava stagione. Confermatissima nel palinsesto della rete Ammiraglia Rai. I colpi di scena non mancheranno e, intanto, arrivano le prime confermare da parte dei vari protagonisti della SOP. Come la giovane Chiara Russo, che nella SOP veste i panni dell'affascinante Maria. In una recente intervista, l'attrice ha svelato di trovarsi impegnata sul set di una nuova serie televisiva che probabilmente la vedrà protagonista nel corso della prossima stagione televisiva ma al tempo stesso, ha voluto tranquillizzare tutti i fan preoccupati per le sorti del suo personaggio nel cast della SOP opera. Chiara Russo, per la prima volta, ha rotto il silenzio sul suo futuro nel Paradiso delle Signore Otto. Confermando che tornerà anche nel cast della prossima stagione. In questi giorni sto girando un'altra fiction. Ma niente paura, finirò in tempo per il nuovo inizio del Paradiso. Ha svelato l'interprete di Maria nella SOP opera Rai. Io e Maria ci saremo, ha aggiunto ancora la brillante attrice confermando la sua presenza nel cast della prossima stagione. In programma da metà settembre in poi nella fascia del day team e pomeridiano di Rai 1. Resta da capire, però, cosa succederà a Maria nel corso della prossima stagione della SOP opera. Dopo aver ricevuto una proposta da parte di Vito, che la vorrebbe al suo fianco in Australia, la ragazza accetterà oppure no? La scelta di Maria sarà al centro del finale di questa settima stagione, a questo punto. Non mancheranno i colpi di scena neppure nel prossimo capitolo della SOP. Sunt un crucișător, lansă rachete a Airsoft. Inca de cand el era broke si se usa de aerosol, de cand avea mall, de cand nu stiai ce imi scol, de cand ascultam gangsta...